Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono RediMinecraft e oggi siamo in un vlog Allora, come vlog, allora, prima di tutto, devo dire che il canale ha solo 3 iscritti E sono un po' dispiaciuto per sta cosa, però, dai, 3 iscritti, cioè, non è poco, cioè, per me non è poco Cioè, anche se non volete metterlo, a me non importa, comunque, allora, mettete mi piace, comunque, lo dirò alla fine, no? Allora, farò dei video, ora, di Minecraft, di Assassin's Creed, il primo, il primo ragazzi, il primo E poi a Natale, che sta per venire, farò il vlog, no, no, scusate, non vlog, scusate Vabbò, sì, il vlog, per dirvi che ho fottutissimamente comprato la Playstation 4 e Assassin's Creed Syndicate Eh, ragazzi, eh, ragazzi, eh, tanta roba, eh, Syndicate Allora, ragazzi, ehm, ah, eh, vabbò, ehm, poi vi farò vedere altri, altri giochi Ora io, sto giocando a Assassin's Creed, uno Quando lo finirò, lo rinizierò con il vostro video Perché io non proprio riesco ad andare avanti, cioè, è difficilissimo Ah, boh, ehm, deve durare ancora un po', cioè, un minuto e 33 un video, che cazzo è? Cioè, il video, spero che lo video di Minecraft dell'altro giorno vi sia piaciuto, anche se era una cazata Un secondo, ragazzi, no, oh, di Batman, di Batman, di Batman Ah, boh, devo levar questa merdata perché se no mi esce da tutto Scusate, ragazzi, che sto giocando a, come vedete, di la Play che sta cancellando una cosa Ah, spegni il sistema perché non c'ho voglia di fare tutto Ok, ho spegno un attimo il sistema, ragazzi, perché devo fare sta cosa qua E però, boh, ora aspetto che si spegna, poi lo riaccendo e basta E poi termino il video, allora, ragazzi, spero che la serie mi stia piacendo Solo che, poi farò anche un'altra serie Ve lo dico, faremo Wonderbook Non so se lo conoscete, beh, io l'ho appena comprato Poi faremo anche Skylanders, Giants, One Force Non so come il cazzo si prese questo in tifoncia, però, gli errori della vita, comunque Ehm, un secondo, ragazzi, che voglio fare, cioè, per esempio, per esempio, una sola persona No, che c'è la luce Cuccolone, 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 guarda lo schermo Ciao, ciao, piccolo Piccolino Piccolino Un mio cottino piccolino, beh, guarda il mio cottino che carino, beh Un mio cottino piccolino Non mi mordere, non mi mordere Io faccio un vlog, sto facendo un vlog, non mi mordere Non mi mordere, guarda, guai a te se mi mordere Allora, comunque, prendiamo la luce Non si sono, non si sono, non si sono, non mi smenta Vabbè, voglio fare un vlog Ragazzi, siamo pronti E siamo, assassin squid Allora, ragazzi Benvenuti A questo vlog Allora, ragazzi, no Ora non farò il video di come giocare E basta Allora ragazzi Poi allora vediamo Poi aprirò una casella postale Per inviarmi i pacchi Qualcuno che volete E poi quando avrò il mio computer Perché io ho ancora quello Che non funziona un Kaiser Quando ne compro uno nuovo mio Per me 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 E poi quando avrò il mio computer Potrò andare a giocare Tipo su Happy Wheels Oppure Non so Altri giochi Outlast per la PS4 Me lo compro Outlast per la PS4 Non dite di no perché lo voglio Ah ecco ragazzi L'inizio di Guardate un attimo Sto secondo Boom Un secondo ragazzi Che voglio farmi vedere Questa scena Guarda io sono quello Lì davanti Ragazzi Guardate Sono una figata Questa è Outuso Allora Grazie.